L'Italia è il paese più amato nel mondo. Benvenuti a Fit America Latina 2023. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Hola a tutti. Sappiamo benissimo quanto sia importante per noi l'Argentina, sono da tutto promuovere il turismo delle radici che sarà del 2024. Siamo una fabbrica di cultura, di buon vivir e di allegria. Noi speriamo seri italiani. E noi vediamo l'anno prossimo. Arrivederci. Vi aspettiamo. Grazie.